L'avvertimento che troviamo in Primo Giovanni, capitolo 2, versetto 15, è chiaro, e i fratelli che hanno commentato lo hanno messo in evidenza. Apriamo la Bibbia in Primo Giovanni 2,15. Non amate il mondo, né le cose del mondo. E' interessante notare che il versetto fa una distinzione fra l'amare il mondo e l'amare le cose del mondo, altro. E quindi, vedete? Lot prima ha molto bestiame e sta con Abramo, poi si trasferisce fra le città del distretto, pianta la tenda vicino a Sodoma e alla fine ha una casa a Sodoma. Cos'è successo? Lot non diventò mai come gli abitanti di Sodoma. Infatti, sotto ispirazione, l'apostolo Pietro, in secondo Pietro 2,8, lo definisce giusto. Ci dice che a causa di ciò che vedeva e udiva mentre dimorava fra loro, si tormentava di giorno in giorno l'anima giusta a causa delle loro opere illegali. Lot non amava il mondo. Era angustiato a causa del mondo. Non abbiamo altri dettagli, per cui non possiamo trarre delle conclusioni certe. Ma ci sorge la domanda se Lot non abbia amato le cose del mondo. Lui o i suoi familiari potrebbero essere stati sviati dalle cose del mondo? Lot riuscì a superare questa situazione. Infatti, Geova lo considerò un uomo giusto. Ma quante sofferenze dovette patire? Perse la moglie. Probabilmente perse anche tutti i beni. E l'ultima volta che viene menzionato, lo troviamo sulle montagne, che vive in una caverna con le due figlie. Che differenza con Abramo, che mantiene le distanze dai Cananei e dalle loro città, e per questo ricevette molte benedizioni da Geova. Quale lezione impariamo? Non conosciamo bene le circostanze che portarono Lot a fare quelle scelte. Ma questo racconto ci induce a considerare le scelte che stiamo facendo noi. Noi non amiamo affatto il mondo. Ma potrebbe essere che le nostre scelte indichino che amiamo le cose del mondo? O che ci stiamo pian piano avvicinando sempre più alle cose del mondo? Amare il mondo o le cose del mondo può causarci molte sofferenze. In questo discorso il fratello Lugioni mette in evidenza come chi è testimone di Geova non deve amare il mondo nelle cose del mondo. Quindi in poche parole deve stare attento al tipo di vita che conduce. Sappiamo benissimo che quando parlano di mondo o di cose del mondo parlano anche di attività secolari. di istruzione di beni materiali. Però a questo punto sorge una domanda come mai questi signori che sono ai vertici della società Torri di Guardia magari non sono nel corpo direttivo però sono sempre lì ai vertici della società Torri di Guardia insegnano insegnano ai loro adepti a non amare il mondo nelle cose del mondo quando poi loro stessi amano il mondo e amano le cose del mondo quando poi loro stessi dicono di mantenersi separati dal mondo ai loro adepti e poi loro vendono le loro sale del regno ai musulmani vendono le loro case e betel ai mormoni cioè a quel punto in quei momenti in quegli istanti i denari di questo mondo a loro non gli fanno schifo com'è che quei denari poi li prendono com'è che li accettano com'è che ci fanno degli accordi dei compromessi nel vendere queste strutture a queste religioni che fanno parte del mondo non è forse questo un controsenso non è questa ipocrisia oppure il non amare il mondo il doversi privare delle cose riguarda soltanto i poveri i poveri diciamo ultimi della ruota coloro che non dovranno mai anzi coloro che sono le vacchie da mungere coloro che sono le pecore da tosare cioè i fedeli di questa organizzazione gli adepti aderenti a questa organizzazione bene quando si vuole dare un consiglio bisogna essere un esempio quando si vuole dire non amate il mondo nelle cose del mondo chi lo dice deve dimostrare che non lo fa e in questo i vertici della società torre di guardia hanno toppato perché loro amano il mondo amano le cose del mondo ne fanno a pieno uso ne fanno a pieno uso e si vede stanno costruendo case cinematografiche e la tecnologia super avanzata l'utilizzo degli aerei extralusso per spostarsi da una parte all'altra della terra e Warwick è un fiore all'occhiello di tecnologie di di tutto allora di cosa parliamo di cosa parliamo quando diciamo non amate il mondo o quando dite e implorate e importate questo modo di vivere a chi è un testimone di Geova o che insegnamento state dando ai ragazzi che dovranno privarsi dell'istruzione secolare di fare una carriera perché altrimenti fanno una carriera in questo mondo che come dite voi sarà distrutto sarà distrutto mentre voi le vostre carriere all'interno di questa società le avete fatto i vostri conti in banca si sono innalzati e la vostra vita è una vitaggiata svegliatevi ma non svegliatevi svegliatevi la rivista cari testimoni di Geova svegliatevi voi per loro siete delle mucche da mungere delle pecore da tosare ecco perché non dovete amare il mondo né le cose del mondo